Enigmi profetici dai tre giorni di buio all'Armageddon finale. Un webinar che ritengo importante è considerata la situazione che viviamo attualmente con la tensione che c'è tra Stati Uniti e Russia ai confini con l'Ucraina più tante altre situazioni nel mondo, punti caldi, punti di squilibrio che possono portare nel futuro a una situazione ancora peggiore. Quindi parleremo di tutto questo attraverso le profezie enunciate da personaggi provenienti da vari ambiti come Nostradamus o altri personaggi come Padre Pio che ha parlato dei tre giorni di buio ma anche di altri mistici che hanno profetizzato queste cose. Ovviamente affronteremo anche le profezie contenute nelle Sacre Scritture nello stesso libro dell'Apocalisse, profezie che spesso hanno dei simboli poco comprensibili o oscuri ma grazie alla scienza dello spirito che ci hanno portato le civiltà extraterrestri e di cui ovviamente parlerò, oggi possiamo comprendere bene sia queste simbologie e anche capire attraverso le spiegazioni che darò che in realtà erroneamente la profezia come tutte le persone pensano non appartiene all'ambito dei credo religiosi ma in realtà sono anticipazioni sul futuro dell'umanità, anticipazioni che possono essere realizzate grazie appunto a delle leggi che ancora la maggior parte dell'umanità non conosce ma che oggi noi possiamo rivelare e possiamo spiegare. Per cui vi aspetto tutti per questo importante e attualissimo argomento. A presto!